Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera. Oggi come tutti ben sapete c'è stato il CDA. CDA che è servito per chiudere, ratificare la maxi perd di 194,6 milioni di euro per il bilancio del 2019-2020. Bilancio fortemente condizionato dal Covid ma un bilancio che segna un ribassamento di costi, di Monteingaggio che rappresentano la voce più consistente del suo stato di calcio, una forte riduzione grazie alle strategie volute, dal fondo io e te volute, amministratore delegato Ivan Gazzidis. Infatti con il taglio netto di alcuni degli ingaggi importanti della nostra squadra, tra cui come ricordate la cessione di Paquetà, la cessione di Suso, il non rinnovo a Biglia e il non rinnovo a Buonaventura, hanno drasticamente abbassato il monte in Gaggi, senza poi dimenticare anche la cessione di Reina e puntare, anche se stato complice di una partita negativa, su un portiere che ha un costo molto inferiore come Tatarugiano. Oggi al CDA è stata ratificata anche una carica importante, la carica del vicepresidente onorario Milan, che ha affidato questo importantissimo compito a Franco Baresi. Leggiamo l'articolo insieme. AC Milan è detto di comunicare la nomina di Franco Baresi a vicepresidente onorario del club. Franco continuerà a mettere a disposizione del Milan la sua immensa esperienza calcistica, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del club, rafforzandone la reputazione e mantenendo il legame emotivo coi tifosi rossoneri e appassionati di calcio di tutto il mondo. Il presidente di AC Milan, Paolo Scaroni, ha dichiarato Sono felice di riconoscere al nostro Franco Baresi un nuovo importante ruolo all'interno del club. Sono lieto di annunciarlo proprio in questa data, il 28 ottobre, che coincide con l'anniversario della sua ultima apparizione in maglia rossonera nel 1997. Questa è la dimostrazione del legame del Milan con la sua storia e le sue radici, ma è anche il segnale di una società che intende costruire i presupposti per un grande futuro, valorizzando la sua leggendaria tradizione che Franco ben rappresenta. Franco Baresi ha commentato così Ringrazio la società, il presidente Scaroni e l'amministratore delegato Ivan Gazzidis per questo nuovo incarico. Diventare il vicepresidente onorario del club con cui ho trascorso tutta la mia carriera da cacciatore e con cui ho anche intrapreso un percorso manageriale è un grande onore, che mi riempi di orgoglio. Sono felice di questo riconoscimento e soprattutto che la società abbia pensato proprio a me per raggiungere un altro pezzo di futuro ad un glorioso bel blasone per continuare a rimanere sempre il grande Milan. Ecco, questa è una notizia molto importante, che il Milan durante la riunione, durante il CDA, abbia in qualche modo pensato a Franco Baresi come il nuovo presidente onorario, una scelta che rafforza la tradizione, il legame, lo stile Milan. Ecco, Franco Baresi, insieme al nostro direttore tecnico Paolo Maldini, ben rappresenta tutto questo. Parliamo di un'altra novità che c'è stata a seguito dell'Assemblea dei Socii. A seguito dell'Assemblea dei Socii è stato nominato al prosto di Frank Tuil, che è uscito al CDA Rosso Nero, è stato nominato Massimo Ferrari. Ora il nuovo CDA Rosso Nero vede Paolo Gazzidis presidente, Paolo Scaroni scusate presidente, Ivan Gazzidis, Stefano Cocirio, Giorgio Furlani, Marco Patuano, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo, Alfredo Traca e per l'appunto Massimo Ferrari. Massimo Ferrari che ha un'esperienza molto importante, che ha un background importante e il manager non ha esitato a commentare la sua soddisfazione attraverso il suo profilo personale di Twitter, scrivendo Questo è quanto ha scritto Massimo Ferrari, un manager di altissimo livello. Sappiamo come il Milan all'interno del CDA metta costantemente, inserisca costantemente dei grandi manager, dei grandi personaggi con grande esperienza, ma soprattutto con fede rossonera. Quindi all'interno del CDA Rosso Nero prende parte anche questo personaggio molto, molto noto in Italia, molto conosciuto nelle aziende e uno dei massimi esperti di economia italiana. E quindi soprattutto grande appassionato di calcio e grande tifoso rossonero. Quindi diamo il benvenuto a Massimo Ferrari. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha assistito anche lui chiaramente e ha partecipato attivamente alla riunione dei piccoli azionisti e ha parlato come sempre dello stadio. Leggiamo le sue dichiarazioni perché sono molto importanti. Seguo con molto impegno il progetto stadio perché è un ingrediente fondamentale per l'economia del club. Sullo stadio di Milano vi ricorderete che a luglio dello scorso anno è stato presentato un progetto che la Giunta ha approvato, con poi delle modifiche al progetto presentato. Se vi ricordate abbiamo fatto un articolo ieri. Nei prossimi giorni verrà presentato un nuovo progetto al Comune che ha il corrente degli ingredienti fondamentali, ovvero salvare la vestigia di San Siro destinando l'area dell'attuale stadio a disposizione dello sport non professionistici. C'è una riduzione delle volumetrie a 145.000 m2. Ci attendiamo che la Giunta passi al vaglio questo nuovo documento dopo che gli uffici tecnici lo avranno valutato in modo che si possa partire con la progettazione esecutiva che è prodromica all'inizio dei cantieri. Il sindaco sale e l'assessore Maran sono al corrente e li abbiamo incontrati spesso. Siamo ottimisti. Quindi Paolo Cascaroni ha fatto il punto per quanto riguarda la questione stadio. Poi ha parlato anche a Ivan Gazzidis, che ha parlato del financial fair play. Queste sono state le sue parole. Se dovessimo qualificarci alle coppe per la stagione 2021-2022, la nostra prossima valutazione avverrà, intende il financial fair play, nell'ottobre 2021. La UEFA esaminerà l'andamento negli ultimi anni, eliminando gli effetti del Covid. Se la tendenza finanziaria andrà in maniera positiva, discuteremo il nostro percorso con le regole in atto. Sarebbe prematuro avere delle discussioni adesso, ma con la disciplina finanziaria che stiamo utilizzando, anche grazie a una proprietà forte, siamo sicuri che arriveremo al percorso giusto per essere conformi alle regole della UEFA. Quindi Gazzidis, che fa il punto della situazione legata all'ambiente, al financial fair play, legato alla situazione economica dell'ambiente rosso-nero. Dichiarazioni importanti, dichiarazioni che in qualche modo sono state anche confermate, rafforzate, dalla Presidente dell'Associazione Piccoli Azionisti del Milan, Auro Palomba, che si è espresso così. APA Milan, Associazione Piccoli Azionisti Milan, ha deciso di votare a favore del bilancio e di appoggiare le scelte fatte dall'azionista Iliot e dal management guidato da Paolo Scaroni e Ivan Gazzidis. Ci sembra che l'AC Milan abbia cominciato il cammino giusto, sia sul campo che fuori, per tornare dove deve stare, nell'imperio del calcio europeo. Apprezziamo particolarmente il fatto che con l'ingresso di Massimo Ferrari siano ora due i soci di APA presenti nel Consiglio di Amministrazione della società, oltre al Presidente del Collegio Sindacale, a conferma dell'autorevolezza della compagine dei piccoli azionisti. Quindi il Milan, che esce rafforzato da questo CDA, esce con una visione chiara, una visione univoca, una visione fatta, garantita da una proprietà forte, una proprietà quella del Fondo ITI che sta investendo, investirà sempre per rilanciare il Milan. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.